La Basilicata, pur essendo una delle regioni italiane più piccole per estensione e per numero di abitanti, racchiude al suo interno importanti gioielli paesaggistici e storici. Affacciata su due mari, lo Ionio ed il Tirreno, è prevalentemente una regione collinare e montuosa che offre panorami incontaminati e selvaggi. A nord il vulcano spento del Vulture, circondato da ampie e fertili pianure, ricorda una delle più acclamate eccellenze enologiche del sud Italia, l'aglianico del Vulture, le cui uve vengono coltivate sulle sue pendici. Nella parte meridionale della Basilicata si trova una delle più singolari città italiane, Matera. Questo gioiello incastonato nella pietra, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'unità, Unesco, meta di un incessante pellegrinaggio di turisti provenienti da tutto il mondo, si affaccia su un profondo burrone disegnato nei millenni dal torrente Gravina. La bellezza e la singolarità di questa città hanno ispirato scrittori e cineasti, i quali hanno divulgato con le parole e con le immagini il fascino ed il mistero che caratterizzano la città dei sassi. L'antica osteria Marconi, sosta golosa odierna che si trova a Potenza, capoluogo della Basilicata, presenta nella sua cucina la storia di questa terra attraverso la proposta dei suoi prodotti e dei suoi piatti più tipici. Siamo a Potenza, siamo qui dal 94, cercando di fare una cucina più attenta al territorio, rivisitando i nostri piatti della tradizione e puntando tutto sulla qualità. Si parte dai prodotti del territorio sicuramente, usiamo al 90%, forse anche di più, solo prodotti della regione, tutti i prodotti di eccellenza. Partendo da questi prodotti cerchiamo di fare una cucina che è legata alla tradizione, magari prendendo spunti alle ricette tradizionali, però rivisitata in modo moderno, sia come cotture che come presentazioni, eccetera. Noi cambiamo la carta molto spesso, in base alle stagioni, ai prodotti, eccetera. Comunque un piatto che non esce quasi mai dalla carta, è un piatto che prende spunto al soffritto di agnello, che sono le interiori di agnello, che vengono soffritte con del pomodoro, eccetera, e lo proponiamo con una pasta nostra tradizionale, che sono le orecchiette. Grazie.